Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Ho visto che avete gradito molto l'ultimo video che ho caricato, quello inerente all'invitation all'italiano che ho vinto con Mono Nero. Ho visto alcune facce conosciute, quindi giocatori che solitamente approcciano al Legacy, ma ho visto anche qualcuno che ha guardato con curiosità ed interesse il contenuto e che mi ha detto guarda io di Magic non ne so niente e mi piacerebbe anche un pochettino approcciarmi. Ed è per questo che ho deciso di portare un ultimo contenuto su Mono Nero, ultimo perché alla fine, tra pochi giorni, tra poche ore, uscirà ufficialmente anche online. Modern Horizon 3 è tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso, tutto quello che è stato anche il metagame inerente all'invitation, al foreseason, eccetera, eccetera, andrà nel dimenticatoio perché Modern Horizon andrà ad aggiungere dei pezzi, delle carte, delle meccaniche veramente, come al solito, sempre rottissime, andrà a modificare il meta di tutti i formati in cui Modern Horizon sarà legale e Legacy non avrà assolutamente scampo, anche questa volta verrà distrutto un pochettino e vedremo se ci saranno dei ban, se sarà necessario intervenire a parte del Wizard oppure no. Ho già qualche carta in mente da aggiungere a Mono Nero, che è diventato un po' il mazzo di riferimento, ma di questo parleremo e mi piacerebbe anche portarvi qualche spacchettamento dal vivo di Modern Horizon 3, dato che qualche carta la stiamo ancora cercando e sto preparando qualcosa, vediamo se riesco a fare coincidere e coesistere le tempistiche tecniche. Dato che ormai questo nuovo meta Legacy, che ormai diventa vecchio, sta per scadere, voglio portarvi quella che è stata l'ultima lega in cui sono riuscito a fare un trofeo, cioè un paio di giorni fa su MTGO sono riuscito a completare 5 partite su 5 con una vittoria e quindi il mazzo è stato poi caricato sui server della Wizard ed è reperibile online. È praticamente la stessa lista dell'invitational, ho aggiunto una landa, sono tornato a 19 terre perché spesso e volentieri mi sentivo di essere un po' in difetto di terre e ho tolto una Shouldered, che è una carta forte, impattante, ma oggettivamente un CC4 è abbastanza pesante e quindi uno potrebbe essere il numero giusto. A maggior ragione adesso che devo iniziare a limare un pochettino di carte dal main per cercare di far posto ad alcune carte di Modern Horizon 3. Ma di questo parleremo in un secondo momento, godetevi il video, proverò a essere anche un po' tecnico all'interno del commento per far approcciare anche chi di Magic non ne capisce niente. Prima partita, siamo on the draw contro un mazzo che parte Isola Vai. Noi sfacciamo per andare a potenziare il nostro Stallated Stalker, lo facciamo triggerare a fine turno, lui cicla troll, noi abbiamo capito che giochiamo contro Scam, Animare i Morti, che va a complicare un po' la nostra race, per fortuna Animare i Morti toglie un punto in attacco al troll, diventa un 5-5, ne facciamo d'outi per cercare di essere competitivi sulla race, cercare di ribaltarla un pochettino. Lui si macina vasta, diciamo che non è proprio la carta migliore in questo spot. Voglio fare tozza per un motivo, se dovesse avere in mano per caso un, non lo so, un Arconte, una Trax o robe del genere, tirarla con d'outi non sarebbe male. Lui fa branza in risposta, ci rivela la sua mano. Qui ci penso un attimino perché c'è da capire quella che è la linea migliore, dato che ci rivela Animare i Morti, douti, force, ponder e borrower. Allora, qui l'idea che ho avuto era quella di utilizzare Brass and Borrower, ma più nel dettaglio il pretitif, per rimbalzare il suo troll e fare in modo che non fosse più in gioco. Quindi, in questo momento, la scartata giusta è stata Brass and Borrower. Lui rimane con force attiva, douti e Animare i Morti, però spero che sia sufficiente così. Perché dopo noi tappiamo due, abbiamo la possibilità di fare un altro douti, che si becca una force, viene quindi neutralizzato. Possiamo picchiare il nostro Stalatic Stalker a fine turno, dato che douti è morto e riesce a potenziarsi nuovamente. Quindi, diciamo che la race stiamo riuscendo a portarla alla nostra parte. Siamo in grado di trovare una soluzione a quel troll. Il suo douti non dovrebbe essere un problema, dato che abbiamo fatal push, e infatti glielo spacchiamo. Tiriamo la Borrower su il suo Animare i Morti, in modo che gli ritorni in mano. In questo momento dovrebbe quindi avere due Animare i Morti, Mare non mi ricordo se l'ha giocato, è una carta che non conosciamo, o Mare, quindi niente di problematico. Ci spacchiamo appunto il douti per tirare la fatina, e poi animiamo il suo troll, ci mettiamo nel rischio, nella possibilità di poter morire dal suo orchetto. Facciamo un'altra palude, e il nostro Stalatic Stalker si potenzia, però ovviamente con solo dei douti al cimitero, i suoi Animari Morti sono inutili, perché lui è morto sul board. Lui casta Griff, e poi concede e muore. Il G1 è roba nostra. Comunque è stato un G1 che si è giocato abbastanza sulla race, abbastanza sul board. Una roba come piace me, diciamo. Scaminator però sulla carta non è un matchup che ci fa paura, noi dobbiamo mulligare la prima mano perché era veramente atroce. Teniamo questa che non è proprio il massimo, non abbiamo chissà quale tipo di interazione, e poi on the draw è sempre un problema. Per fortuna lui non parte con la scammata, ma va di ponder. Credo che questo sia un po' il limite di un mazzo che vuole fare la scammata di primo quasi sempre, avere anche le carte blu che limitano la possibilità di farlo. Insomma, non è mai la migliore delle cose. C'è un bug su MTGO che ci permette di pescare sempre la Surveilland, infatti anche in questo caso era la peggior pescata del mazzo, perché noi potevamo tranquillamente fare la nostra Verdant Catacomb a fine turno per specciare su Undercity, e invece no, ce lo dobbiamo pescare. Ma davvero, fateci caso, se avete giocato anche voi su MTGO, avrete sicuramente visto questa cosa. Lui va di troll per andare a prendersi una terra e probabilmente andare già a fare la giocata forte del mazzo, anche se alla fine non la fa. Noi a fine turno con Cling to Dust andiamo a mangiare il troll, perché sarebbe bello rianimarlo anche noi, ma in questo momento non abbiamo la possibilità di farlo, dato che non abbiamo dei rianimiti in mano. Lui ci fa un Days, non ci interessa così tanto. In realtà questo Days su Cling to Dust sarebbe stato forte farlo, ma non indispensabile. Andiamo a fare stall a Tith Stalker e specciamo per potenziarlo. Non voglio cercare di perdere anche gli Orchetti picciandoli di Griff. Lui fa una branza a fine turno, il Griff lo fa lui a noi, picciando un altro Griff, ci toglie gli Orchetti ed ecco qui che arriva, Animare i Morti, e questa volta lo fa su Griff e non sul troll. Vuole toglierci il Griff dalla mano, a tutti i costi. Quindi probabilmente, se avessimo fatto noi Griff nel turno precedente, sarebbe stato un gran bel problema perché ci sarebbe stato un troll dall'altra parte che andava a complicare non poco la nostra race. Noi facciamo una gran bella pescata perché basta gli toglie il mana, lo tiene distante e potenzia il nostro Talatith Stalker che in questo momento è più forte del suo Griff dato che Animare i Morti gli dà meno uno o meno zero. Noi siamo invece dei 3-3. Trova un'altra terra, ma è una vasta, sufficiente però per rimbalzarci il nostro Stalker. È una giocata molto tempo, quella del nostro avversario, per cercare di portarla a race dalla sua parte. Però noi siamo veramente fortissimi e infatti peschiamo un'altra vasta e questa vasta veramente è una pescata della madonna perché riusciamo a togliergli ancora una volta il blu. Lo facciamo prima di tirare una spell per evitare che gli possa riprendere in mano quel mare con un Days. Facciamo il nostro Talatith che si potenzia ancora una volta e si inizia una partita folle. Lui doppia vasta, anche lui. Diciamo che le nostre sono un pelo più forti. Griff attacca, ripeto, se avesse utilizzato il Troll invece che Griff sarebbe stato un gran bel problema per noi. Noi peschiamo un'altra fetch che è forte perché Stalker in questo modo riesce a recuperare un altro punto in attacco. Siamo un po' dietro in questo momento per colpa delle fetch e di colpa di quel rimbalzino. Lui ancora una volta non trova una blu. Noi invece siamo forti nel trovare un'altra fetch che porta Stalker a quattro di potenza, di forza e costituzione. E abbiamo anche la possibilità di ritirare Cling to Dust dal cimitero in questo caso, quindi assolutamente non male. Tutte queste fetch ci hanno abbastanza aiutato. E infatti, a fine turno, decidiamo di tirare questo Cling to Dust. Rimuoviamo un po' di roba dal nostro cimitero. E riusciamo a tirare finalmente questo Cling to Dust sul suo Troll per evitare delle brutte sorprese. Andiamo a bere un po' di vite che in questa race non fanno assolutamente male. E noi peschiamo l'ennesima fetch di questa partita che da pescate morte diventano pescate forti perché Stalker va a potenziarsi non poco. Sono cibo per Cling to Dust al cimitero. Ma questo è in questo momento un 5-5. Teniamo una carta on top. Lui ha la terza vasta e finisce questa partita senza il mana blu. Veramente una partita allucinante. Questo G2 è stato assurdo. Secondo match della Lega contro Wakarok che è un giocatore giapponese che gioca spesso e volentieri Delver. Lo conosciamo. Noi ancora una volta abbiamo la nostra Under City Seward in mano. Ovviamente, come privarcene. Diciamo che le tozze non sono proprio il massimo contro Delver. Anzi, perché perdere tutte queste vite è un po' un problema. E diciamo che la sua mano in questo momento ci dava anche abbastanza fastidio. Abbiamo dovuto togliere un Delver per evitare di trovarci due bestie sul tavolo che potevano picchiarci. E non poco. Era una mano abbastanza forte, la sua, per essere una partenza aggressiva. Delver non è un brutto matchup per il mazzo, in realtà. Il problema è che si soffre quando parte veramente così forte. Quindi zero cantrip, tante bestie, tanta potenza sul tavolo che possono farci male, possano portare giù le nostre vite molto velocemente. pesca una bolla che non è assolutamente male perché ovviamente bolla riesce a far triggerare Delver, riesce ad aiutare nel girare il Delver. Noi qua abbiamo in realtà un po' di giocate, però quel daze e quella force of negation vanno ad ostacolarci e non poco. Quindi vado con la ceclata di troll, vado a prendere una palude e vado con uno stallati di stalker che prima si guarda di bolla, risolve, ovviamente ha risolto perché e non ha preso il daze la bolla, visto il bolt, diciamo, era una carta abbastanza forte. In questo spot il Delver si gira, il bolt ci toglie il nostro stalker, lui va a speciare, prende un mana verde e fa un ponder per cercare di ottimizzare le sue prossime giocate. Ha quattro carte in mano, noi ne conosciamo tre. Troviamo gli orchetti, andiamo a fare una tozza. La tozza in questo caso è abbastanza problematica perché intanto c'è quella vasta che dà fastidio sulla nostra terra. Poi il Questing Druid è forte, il daze è molto forte, la Force of Negation è molto forte, non mi sento proprio il più caldo del mondo. Tolgo il Druido per cercare di limitare la sua race, facciamo Undercity per vedere cosa ci riserverà il futuro. C'è un Dauti che rimane lì, però a fine turno quel Dauti verrà molto probabilmente rimescolato per via del ciclo paludo del troll che ci permetterà di essere fuori dal daze con gli orchetti, però anche in questo caso, come potete vedere, quella terra tappata ci ha dato non poco fastidio. Incredibile, MTGO non aiuta, non aiuta da questo punto di vista, per niente. Fatal Push non è una brutta carta, ovviamente. Io decido di passare perché Force of Negation è una possibilità. Decido di vedere se fargli orchetti a fine turno. Vado di Rito Oscuro per cercare di tirare tutte le carte che ho in mano. Rito Oscuro risolve. Orchetti, un danno su di te. è Fatal Push. Per uscire da daze bisognava far così. Però, il problema è che arriva un'altra minaccia da parte sua. C'è Cling to Dust che potrebbe togliere quella bolla, ma quella bolla non è sufficiente per far uscire dal delirio questa Dragon Rage Channeler. Ed è la terza bestia forte che ci tira a costo 1. Noi la bolla la togliamo nel suo turno per evitare che Force of Negation possa togliere il nostro Cling to Dust anche dal cimitero che lo possa rimuovere dato che a differenza di Force Fon rimuove anche una carta dal cimitero. E c'è questa race abbastanza fastidiosa perché a colpi di 3 si fa in fretta arriva un altro Dragon Rage Channeler e come vi dicevo quando Delver riesce nell'impresa di pescare tutte le creature subito senza dover passare dai Kentrip e quindi diventare un masso molto agro ci dà abbastanza fastidio. Quando invece perde dei turni nei Kentrip nel cercare di costruirsi la giocata eccetera eccetera noi buttando tanti permanenti sul campo di battaglia difficilmente riesce a risolverli. questa è la partita tipica invece che ci dà fastidio contro Delver. La side data è facile perché tolgo 4 tosse e un Griff per inserire i nostri 4 shoulder dedict quindi è abbastanza tranquilla più il carretto al posto del Griff. Tolgo Griff in una copia perché anche fare reanimate non è proprio il nostro piano migliore nel senso che contro massi con i Bolt non abbiamo questa volontà di andare bassi di vita a meno che non so non sia un troll di primo che ci aiuta però anche farsi meno uno in mano con Griff e perdere delle vite si è forte la scammata di primo certo però non sono mai dei grandissimi top deck quindi credo che il 3x di Griff sia l'ideale contro Delver almeno in questo momento sai dando in questo modo qua. Qui tengo una mano molto audace perché decido che per vincere questa partita serve andare molto forte e quindi sfetcio per avere la possibilità di avere anche una carta al cimitero rito scuro Dauti Cling to Dust sul mio rito scuro che pesca reanimate quindi di primo doppia spell certo Cling to Dust si poteva tirare sul ponder indubbiamente ma volevo cercare di ottimizzare il mana di rito scuro abbiamo Stallate Stalker Dauti che picchia in realtà no ponder non lo poteva mangiare perché ha già mangiato di Dauti giustamente quindi no Cling to Dust è stato tirato correttamente qui c'è un secondo Dauti decido di tenere rito scuro in mano per il futuro si poteva anche cercare di fare doppio rito e doppio Dauti di primo ma a me sarebbe stato eccessivo Dragon Rage Channeler contro Dauti non è il massimo anzi Bolt viene mangiato ma noi abbiamo appunto il nostro re-inimit qua peschiamo Griff qua peschiamo Griff che non è male diciamo picciamo rito scuro qui è il momento in cui è giusto picciare rito scuro secondo me perché tanto con due terre riusciamo a giocare a maggior ragione se vogliamo fargli la scammata riusciamo a vedergli la mano sappiamo come muoverci allora c'è Ponder Days Branza e Murtide Murtide non è in questo momento il problema più grande che abbiamo anzi perché Dauti riesce ad aiutarci togliamo il Ponder il Griff viene rianimato eccolo qua quindi gli togliamo la possibilità di di interagire con il suo masso gli togliamo anche la Branza in questo momento in mano a Murtide Days e basta decidiamo che se vuole fare Days su questo Stalker ci sta ci va bene così Dragon Rage triggera mette nell'esilio la bolla di Mishra purtroppo questo Stallant è destinato a morire ma direi che è stato un turno molto forte la scammata è sempre qualcosa di molto forte nei primi turni quando è tapped quando non riesce a fare chissà che cosa qui pesca un Delver che è una buonissima carta perché come dicevamo prima quando Delver riesce a mettere tante bestie sul board senza passare dai Cantrip non è male qui addirittura i Cantrip li avevano tolti quindi li ha topdeccati meglio di così si muore io decido di attaccare con tutto perché se decide di scambiare il suo Dragon Rage Channel e il suo Delver per il mio Griff mi va benissimo cosa che effettivamente poi succede davvero lui in questo momento ha vasta e morta ed in mano che è una non mano riesce a pescare un'altra Dragon Rage che per fortuna è innocua dato che non non c'è possibilità di girarsi fino a che c'è Dauti in gioco è l'ennesima comunque creatura che riesce a pescare il nostro amico la pescata di vasta non è per niente male decido di appoggiarla ma non tirarla perché mi piacerebbe pescare un altro mana per fare Griff tappando 4 anche perché le sue due terre blu sono forti per Murtide ma Murtide non può arrivare con Dauti in gioco quello sarà un problema poi successivamente nel caso lui pesca un Bolt che è una buona pescata dato che ci toglie il nostro amico però ora che Murtide è diventato un pericolo quella vasta che non abbiamo fatto prima ci torna utile perché Griff ci rivela la sua mano che conosciamo gli rimane soltanto vasta lui con la sua vasta si toglierà la nostra vasta per tenere le sue terre però è giusto così andiamo con il nostro Griff che picchia lui è a 4 pesca una terra va a 3 decide di fare Ground Seal allora io in risposta Ground Seal decido di di utilizzare Kling to Dust si Ground Seal boh carta un po' così anche perché lui oggettivamente se non pesca Bolt qui lo vedo abbastanza male o comunque un'altra bestia in grado di boccare il nostro Griff togliamo Murtide andiamo a 15 ci portiamo avanti un po' con le vite e lui perde questo turno ripeto Delver non è un brutto matchup dipende sempre dall'approccio sperando sempre di essere molto aggressivi teniamo comunque una mano che non è per niente male perché qui c'è la possibilità di mettere tantissima potenza sul board già dai primi turni lui ancora una volta parte aggressivo giusto che sia così ovviamente peschiamo la nostra Surveilland ebbè deve essere così deve essere così rito scuro sta la Teat Stalker sta la Teat Stalker e ciclotroll è una partenza che mette comunque 4 di potenza sul board di primo che non è male primo Bolt ce lo mangia secondo Bolt ce lo mangia perfetto la nostra partenza superforte è diventata una partenza in cui non abbiamo più niente che non è male mettere così tanto sul board contro Delver però è stato più forte lui però gli sono rimaste due carte in mano andiamo con la nostra Shuler decidiamo di capire cosa ci riserverà il futuro c'è un Griff Griff possiamo tranquillamente metterlo al cimitero Branza per cercare di girare Dragon Rage questa Branza trova una vasta che vabbè non è proprio la cosa che ci dà più fastidio al mondo questo è molto forte questo è molto forte quindi decido di proteggere la giocata dei nostri orchetti facendo Griff che piccia troll che il nostro orchetto deve risolvere deve portarsi via Dragon Rage Channeler per forza di cose deve farlo Branza e Days ecco qui inizia una partita molto strana perché Days ci mangia il nostro orchetto e Branza è un rischio lasciargliela perché è vero che noi possiamo tirare risposta agli orchetti però quando è che lui tirerà questa Branza si girerà quella Dragon Rage che ci darà noia quindi decido di seguire questa linea via Days gli lascio Branza e passo e allora lui qua inizia a mangiare la foglia dice perché mi hai tolto Days la devo tirare o no questa Brainstorm perché se tiro questa Brainstorm e tu hai mano gli orchetti io sono un po' nella merda ci pensa ci pensa ci ripensa passa il tempo passa il tempo passa il tempo e lui giustamente che è giusto che sia così pesca il nostro peggior incubo perché ovviamente Murtaide è una carta molto difficile da fronteggiare con Mono Nero allora è il momento opportuno di trarre gli orchetti di mangiarti la Channeler e adesso è una gara a chi topdecca più forte perché tu in mano hai Branza che a noi ci va bene e noi in mano non abbiamo niente è una gara a chi topdecca più forte e noi topdechiamo fortissimo fortissimo topdechiamo Shoulder Dedict ti mangiamo il Murtaide benissimo attacchiamo ora tu hai Branza in mano che cosa succede? niente passi d'accordo tocca a noi vediamo fino a dove ci possiamo spingere un altro orchetto è molto forte lo tiriamo così potenziamo la nostra armata un danno a te ancora Brainstorm in mano non sei contento vero? questo è un altro pezzo è molto forte decidiamo di picchiare lui ci fa il furto sulla nostra armata di orchi per limitare la nostra race noi facciamo il nostro stalker si becca addirittura una force picciando quella famosa Brainstorm e ora la race è risistemata possiamo dire così lui non può tirare neanche la sua borrower noi decidiamo di rimuovergli credo Bolt sì abbiamo tolto Bolt dal cimitero per pescare e vedere se avevamo la possibilità di fare un altro pezzo abbiamo pescato oggettivamente un pezzo anche molto forte perché arriva Dauti che è una race molto molto temibile dato che lui è puramente al top deck e infatti decide di concedere e siamo 2 a 0 allora vi dico subito che questo terzo match è stato una sorta di buy perché credo che abbiamo beccato uno dei migliori matchup in assoluto del masso tra l'altro nella lega successiva ho perso questo stesso matchup con l'avversario che è rimasto a 1 però tra Orchetti e Shouldred abbiamo assolutamente il controllo di quelle che sono le pescate extra dell'avversario io decido di essere un po' più cauto del solito e di fare Polluted buy anche solo per speciare Undercity e scraiare fare surveil alla fine del turno dato che non sappiamo contro chi giochiamo e abbiamo la possibilità di fare un drop a 4 di secondo grazie a reto oscuro lui parte con una surveiland bianca verde e qui dico ok contro cosa stiamo giocando e scarta questa e dico perfetto la presenza dell'incantatrice è proprio la carta che volevo vedere quindi noi sfacciamo andiamo di surveiland a nostra volta c'è una palude decidiamo di pescarcela perché il mana non è mai un male Griff che piccia il troll per cercare di capire se c'è la possibilità di levarci la nostra Shouldred che arriva di secondo è una mano vergognosamente scarsa la sua poverino veramente poverino perché Shouldred uccide completamente questa mano noi decidiamo di scartare il candelabro e arriva Shouldred di secondo che contro un mazzo che è destinato a pescare mi sembra decisamente molto molto forte Utopia Sprawl d'accordo non è un problema guadagniamo vite poi decidiamo di attaccare e di terzo buttiamo anche altra potenza di fuoco sul board contro una mano poverino la sua che è molto molto scarsa noi abbiamo 729 di potenza sul board a turno 3 zero carte in mano ma non ci interessa e decide di concedere in questa situazione poverino poverino g2 siamo on the draw il nostro avversario mulliga a 5 noi abbiamo comunque ancora una volta una buona mano incredibile che Shouldred in mono pair sia apparsa due volte su due contro Enchantress quindi una bella schiappata possiamo dire la verità ma ripeto lui ha mulligato a 5 poverino fa questa partenza noi abbiamo la possibilità di fecciare e fare il nostro bellissimo stalker lui fa l'argotiana va bene l'argotiana ce l'accogliamo facciamo basta abbiamo i due mana che ci servono per cercare di tirare anche il il nostro il nostro orchetto decido di pitchare l'opposition agent che non mi sembra la carta migliore in questa mano Shouldred è forte l'editto è forte l'orchetto è forte cerchiamo di capire quella che è la sua mano non c'è assolutamente nulla di niente lui fa Surveil d'accordo si potenzia il nostro Stalactite per colpa di Griff lui si è macinato il candelabro ha una carta in mano che è una foresta ricordo se è innevata o normale ma poco cambia è una foresta innevata che succede tappo 2 faccio Utopia Sprawl pesco e vabbè se peschi io allora ti propongo questo orchetto che pinga uno poi peschi orchetto che pinga un altro potenziamo la nostra armata cosa fai? passi d'accordo tocca a noi un'altra vasta abbastanza inutile in realtà però può fare male io qua decido di attaccare con tutto perché se lui vuole scambiare la sua argotiana per non pescare più di orchetto a me va bene gli andiamo ad annullare bene o male il mazzo e quindi comunque andiamo a fare vasta appoggio vasta gli togliamo argotiana che si non è un problema con orchetto però sempre meglio farlo pescare il meno possibile potenziamo il nostro stalker abbiamo 4 di stalker più 2 di orchetto più 1 di orco abbiamo 7 di potenza sul tavolo non è per niente male attacchiamo con le nostre creature lo mandiamo 2 teniamo un topo questa carta ci peschiamo il troll facciamo tutto così si potenzia ancora una volta lo stalker e al turno dopo abbiamo anche la possibilità di tirare shoulder ne abbiamo fatto un po' di robe ma siamo andati veramente anche oltre quello che potevamo fare perché questa è stata veramente la partita più facile della lega in assoluto facilissima sul 3-0 invece quindi alla quarta partita della lega mi sono reso conto che è stata la più problematica forse abbiamo trovato un matchup che non mi piace trovare un matchup dal quale stiamo discretamente male questo qui siamo on the play il nostro avversario è un monoliga 6 io ero abbastanza contento in realtà tappo 1 tozza e mi ritrovo questa roba qui quindi il nostro avversario sta giocando mono red prison mono red stompy moon stompy chiamatelo come volete ed è un problema perché calice ci disfa il mazzo perché questo non muore da shoot the sheriff perché trinisfera ci fa abbastanza schifo come carta e quindi non è proprio il massimo della vita è vero che in questo momento calice non è chissà quale tipo di problema dato che non abbiamo troppo a 1 però il mazzo ci viene un po' smontato e troppo a 1 decido di togliergli il bombardiere perché il bombardiere è una carta veramente molto forte forse troppo forte che cambia la race molto velocemente lui parte di città dei traditori e calice a noi va bene perché nel caso c'era la volontà di utilizzare anche vasta sulla sua trinisfera per cercare di tenerlo indietro noi sfacciamo ci facciamo il nostro Dauti per ottimizzare il mana perché il calice ovviamente ci regala la pescata di Stalatic Stalker lui va di montagna trova Rubble Master che non è proprio il nostro sogno è stata una buona pescata la sua però per fortuna l'orchetto può aiutarci e non poco contro Rubble Master tocca a noi peschiamo un altro troppo a uno lo schifo dello schifo dello schifo attacchiamo con il nostro Dauti che tanto non potrebbe bloccare e adesso c'è una sola speranza una e una sola che lui attacchi con il Rubble Master perché non dovrebbe farlo lo farà dai sì lo farà lo farà lo farà lo fa quindi qui inizio a vedere la possibilità di vincere questa partita perché faccio orchetto gli spacco un Goblin Rubble Master è molto molto forte certo ma rimane con due di costituzione quindi orchetto doppio blocca Rubble Master perfetto rimane con un 1-1 ma noi abbiamo anche una buona possibilità e cioè utilizzare il nostro Dauti che si spacca gioca Rubble Master e noi abbiamo pescato l'ennesimo drop a uno da quando c'è calice abbiamo pescato nell'ordine Stalker tozza tozza dicevo di far Rubble Master e lui concede sul nostro Rubble Master per fortuna per fortuna noi conoscevamo queste due in mano ha concesso subito a noi va benissimo così perché non so poi se riuscivamo a ribaltarla a noi va benissimo così a lui bastava tipo una Fury top decata non lo so robe del genere va bene va bene Fury che tra l'altro è una carta che davvero davvero ci smonta la mano ci smonta il mazzo probabilmente ci smonta la board allora io tolgo i tre clean to dust perché sono drop a uno le quattro tozze perché fanno un po' schifo e un reanimate perché lui tra carretti tra calici tra inisferre robe del genere un po' ci da noia si poteva pensare anche a Narrod perché comunque ha degli artefatti come Mox e robe del genere che arrivano però ho deciso di non inserirla ovviamente entra le polveriere entrano i plug per i goblin entra un po' di roba antipatica gli editti e robe del genere dato che sono drop a due che escono da calice calice a uno è una giocata che molto probabilmente arriva sempre infatti ho fatto bene a non mettere Narrod perché lui è partito appunto di Mox di Cromo Mox che piccia Fury non fa niente però e già questa è una notizia buona nel senso che poteva esserci qualsiasi cosa sul tavolo a turno uno invece no lui rimuove la scimmia spirito guida e di secondo ragazzi ci propone l'anello ecco un'altra carta che non è che ci dia proprio così tanta gioia l'anello anzi la lega prima di questa era terminata 4 a 1 perdendo proprio l'ultima partita sul 4 a 0 esattamente da questo mazzo qui ed esattamente per anello noi decidiamo di fecciare under city per scraiare la nostra cima c'è un fatal push che diciamo non è proprio quello che ci serve in questo momento adesso ci servono gli orchetti ci serve shoulder e quella roba lì ovviamente non arriva andiamo di dauti ma siamo già a rincorrere questa partita è anello di secondo ragazzi blood moon non me ne frega niente di blood moon non c'è niente di cui mi possa fregar meno di blood moon proprio la carta più scarsa che ci poteva essere perché ha un'altra polveriera che è uno schifo attacchiamo ci diamo di fare il plug si per massimizzare il mana chiamiamo goblin ma la ripeto ragazzi l'anello è veramente troppo lui va 7 carte in mano tappa 5 fa fiori di mana noi siamo praticamente morti decido di concedere perché non ha senso giocarle e andare avanti partite molto molto veloci la lega è durata circa un'oretta al massimo come potete vedere insomma ci sono degli incastri che ci danno particolarmente fastidio contro mono red io decido di tenere questa mano che è una mano molto ambiziosa però può fare delle cose perché può fare troll di secondo volendo quindi può fare delle cose lui mulliga a 6 anello è una carta veramente molto forte ragazzi madonna se è forte l'anello lui parte di antro non fa nient'altro quindi io decido di fare il nostro troll andare a prendere la palude attaccare con il nostro stalker lui decide di utilizzarla qui questa carta a noi va benissimo così decide di ucciderci il nostro stalker ok e allora ci toccherà rianimare il nostro troll faremo così andiamo a 14 però abbiamo un 6-5 di secondo sul tavolo va di mox di cromo piccia bloodbun che è uno schifo e con tre mana non fa niente quindi lui ha fatto terra passo per spaccarti un 1-1 piccio mox per non far niente va pure che lo scartassimo non lo so qualcosa del genere toccherà picchiarti con il troll io pensavo quasi prendesse il rimbalzo invece no e allora noi tappiamo 2 e facciamo douty e abbiamo messo 9 di potenza al terzo turno tomba antica tapo 4 tapo 5 arriva fury mi mangio il douty ok fury sicuramente un problema troll è più forte ma è ancora più forte shoot the sheriff il troll decide di entrare tanto fury può soltanto guardarlo non può essere bloccato il nostro caro vecchio troll basta tra l'altro una pescata della madonna qua ci sono tante linee da poter scegliere però dato che lui va a 6 con questo attacco e quindi il turno dopo è morto io decido di svastargli la tomba e poi fargli shoot the sheriff su fury ora lui rimane con tre mana qua si poteva passare in realtà dopo averlo svastato shoot the sheriff è un istantaneo quindi si poteva passare e basta però diciamo che me la sentivo abbastanza calda mi sembrava già una buonissima situazione dato che c'erano i letali sul tavolo dai siamo riusciti a portare a casa questa partita difficile 4-0 e se pensavate di aver visto un matchup difficile contro Mono Rosso non avevate ancora visto sul 4-0 l'ultimo avversario con Mono Blu eh sì Mono Blu e lo so che sembra una follia ma è così e ve lo dimostrerò ed è stata una partita molto complicata una partita molto combattuta adesso vi faccio vedere Polluto e Delta ok Tossa Sveccio Isola la più classica delle branze per nascondere un po' di roba dalla tozza e lui ci rivela questo io tolgo Murtade però ci rivela vasta vasta Stifle Fluded e Ponder dico diavolo ok togliamo Murtade che mi sembra discretamente forte Stifle non è che ci faccia proprio così male sia abbiamo una feccia abbiamo il troll però va bene così Ponder boh sì può trovare un po' di roba le vaste non ci fanno niente mi sentivo molto avanti vi dico che abbiamo perso questa partita lo dico così vi preparate questo G1 l'abbiamo perso e vi mostro che cosa aveva nascosto quali erano i suoi segreti basta ok perfetto e io dico non fai niente che cosa che cosa mai succederà noi noi possiamo fare un po' di roba castello Dauti se mi svasta il castello me ne farò una ragione tra troll rito marsh flat abbiamo possibilità di fare delle robe lui a fine turno tappa due Dressdown e io dico vabbè d'accordo pesca pure quindi Dressdown è quella che aveva nascosto quella che ha pescato è quella che aveva nascosto e adesso invece non ha ovviamente delle carte che conosce quindi se ha fatto Dressdown a fine turno il motivo era uno solo perché lui ci svasta fa Ponder d'accordo quindi rimane con Vasta Stifle Flooded quella che ha pescato e quella che viene su di Ponder quella che ha pescato l'avrete capito tutti un po' che cos'è tanto c'è un'isola che è una delle carte che ha visto fa Gamberone e io dico vabbè sai che cosa c'è Gamberone è forte quindi era quella sotto Dressdown sicuramente però hai fatto isola quindi l'isola l'hai trovata adesso o l'hai pescata prima io conosco Vasta Stifle Flooded credo di aver vinto questa partita perché quel fatal push ti mangia il gambro muore Dressdown va bene non è un problema tocca a me pesciamo un altro Dauti sfegciamo perché così ci togliamo con lo Stifle ci togliamo il dente di fare push e ovviamente lui ha trovato la force picciando lo Stifle quindi lui rimane con due terre in mano ecco ora la partita è sicuramente più complicata Dauti sul Rito Cling to Dust anzi no faccio il Troll faccio il Troll ma qua potevo fare Cling to Dust in realtà per pescare una carta in più invece ho fatto il Troll va bene anzi qua dovevo fare Cling to Dust non è che potevo ci sono tolto una carta dal mazzo ma la toglievo lo stesso va bene vado a 5 Flooded quindi lui Avasta è una carta che non conosciamo cosa peschiamo peschiamo una Vasta che non ce ne faccia niente perché siamo morti sul board da quell'attacco di Gamberone quindi adesso dobbiamo trovare una soluzione per forza di cose ci mangiamo Dress Down si becca Spell Pierce io devo fare la giocata di Spacco Dauti ti tiro Force su Spell Pierce perché se no sono morto quindi ti tiro la Force qui sopra lui comunque ha pescato un'altra bella carta diciamo che tra tutte quelle che poteva prendere peschiamo Rito Oscuro e siamo morti perché anche se tiriamo Rito Oscuro e facciamo Cling to Dust dopo non abbiamo il mana pair e adesso non ce la fa vedere la carta che forse si se faccio draw a card si non ce la fa vedere l'avevo vista durante la partita avremmo pescato un altro push quindi probabilmente quel Cling to Dust era da fare lì poi è ovvio che non avremmo oggettivamente pescato push perché facendo troll abbiamo mescolato il mazzo però era meglio concederci una possibilità in più facendo Cling in quella situazione lì invece che ciclare troll però abbiamo perso la prima ed è stata una sconfitta possiamo dire abbastanza incastrata diciamo così giochiamo contro la rappresentazione massima di un mazzo tempo ha fatto veramente delle giocate tempo questa è una mano che vi devo dire mi stuzzica on the play quindi noi teniamo fetch sfetch andiamo a prenderci la nostra paludina facciamo il nostro bel rito scuro ah no scusa facciamo stalactite stalker non ho voluto fare terra rito d'auti stalker non so per quale motivo ero convintissimo di aver fatto terra rito d'auti stalker va bene non l'abbiamo fatto non si sa perché ho deciso di giocare conservativo non si sa per quale motivo neanche io so il perché va bene peschiamo gli orchetti attacchiamo col nostro stalker sfetchiamo lui sfetce risposta io faccio rito scuro sulla sfetchata faccio gli orchetti così se vuol fare una branza e risposta non la fa magari ci vuol tirare uno stifle qui sopra e infatti è stifle io faccio un secondo rito scuro e faccio d'auti d'auti risolve quindi non aveva la forza si pompa il nostro stalker ripeto non so perché non ho fatto la giocata di primo per avere anche d'auti in campo non ne ho la più pallida idea isola vasta a noi non ci dà tutto questo fastidio in questa situazione qua di esiliato in questo momento con d'auti non c'è niente noi peschiamo vasta che è una bellissima pescata perché ci dà il mana necessario per riuscire a tirare ditto dovesse mai arrivare il suo gamberone se ci vuole svastare la vasta prego che lo faccia pure lui va 8 punti vita dress down ok questo dress down libera la sua brainstorm nella brainstorm non c'è niente e quindi decide di concedere brainstorm sotto orchetto che non prende danni sembra molto forte però qua ho giocato male secondo me tra g1 e g2 alcune scelte non proprio condivisibili vedi che fa bene riguardarsi un pochettino quando si gioca questa è una bellissima mano perché di primo può fare un sacco di porcherie veramente un sacco lui mulliga va a 6 quindi se vinciamo questa abbiamo fatto il trofeo siamo da 5-0 terra passo qui c'è uno stifle chiamato grande come una casa noi peschiamo un'altra palude quindi proponiamo la palude terra rito qua invece andiamo andiamo forti differenza del del g2 c'è una branza in risposta al rito paura degli orchetti facciamo subito troll perché così abbia la possibilità di fare reanimate fuori da daze poi reanimate che si becca una force d'accordo e allora andiamo di stalker che si potenzia e lui è rimasto con 3 carte in mano diciamo che abbiamo consumato anche noi tante risorse ma anche lui non è messo proprio benissimissimissimo abbiamo il nostro stalkerino peschiamo un orchetto che male mai non fa contro i mazzi che hanno i cantrip contro i mazzi blu assolutamente no ma prima abbiamo visto che anche contro mono red prison è stato indispensabile per bloccare il suo rubble master qua non faccio terra per qualche strano motivo nel mondo perché era da fare prima dell'attacco e se risposta ci fa branza che cosa gli raccontiamo niente per fortuna branza qui non c'è diciamo terra passo è il tuo turno sfaccio scalding sfaccio su scalding tripla isola e arriva lui murtait io in risposta faccio gli orchetti se vuole fare un days qui vuol dire che non ce l'avrai dopo per l'editto questo risolve e adesso speriamo che non ci sia una forza l'avresti tirata sugli orchetti non l'avresti tirata sugli orchetti non lo so vediamo palude editto di shoulder stable denial stable denial pazzesco che carta pazzesca eh ce l'ha fatto ce l'ha fatto stable denial d'accordo per fortuna murtait è un 5-5 quindi non è proprio la bestia più forte del reame ecco perché prima gli orchetti hanno risolto non c'era force non c'era days c'era stable denial pazzesco e allora attacchiamo con il nostro stalactite 2-2 che sembra essere forte dato che a menance inizia la sua race però la race è dalla nostra eh noi andiamo a 15 anche se noi abbiamo praticamente la sua potenza sul board con 4 bestie questa è un'altra storia under city sperando di eh trovare una creatura un permanente infatti c'è Dauti che ci maciniamo perché così i nostri stalactite stalker si potenziano rimaniamo aperti anche di tre mana per poter spompare in caso di necessità il suo murtait e subire meno danni dovesse succedere qualcosa di strano eccoli qua che si potenziano perché under city ha messo al cimitero un permanente a fine turno lui pensa qualcosa eccolo qua c'è una borrower sul nostro stalker 3-3 d'accordo ce ne faremo una ragione lui è 6 che non sono tanti eh si è tolto dai letali e va bene così ci attacca col murtait si andiamo a 10 sono due giri di murtait anche se c'è quella borrower a tiro che può essere però uccisa da stalker abbiamo pescato anche griff quindi abbiamo la possibilità di capire anche che cosa c'è nella sua mano qua si poteva giocare forse un po' più safe e cioè rimanere open per spompare con sta latte stalker però con due carte in mano e la borrower quindi borrower e murtait insieme non sono letali mi sentivo abbastanza tranquillo nel nel giocarla e quindi guardando la sua mano cercare di capire cosa c'era nella sua mano sfruttando griff rito scuro e compagnia cantante rito risolve griff risolve anzi griff lo fa concedere che è ben diverso dato che giocava a mono blu e quindi non aveva i bolt ho deciso di seguire questa linea forse un po' aggressiva ma va bene così vi volevo mostrare molto velocemente questa partita che non c'entra niente con la lega è stata un'altra lega però sono successe un po' di robe simpatiche lui giocava dark depths guardate qua si fa il 20-20 noi abbiamo la possibilità di fare anche noi con Dauti dark depths rianimiamo la sua vampira e adesso è un mirror di 20-20 solo che noi abbiamo anche alcune creature arriva la terza depths veramente diventata la follia diventata la follia avevamo anche noi il 20-20 sul tavolo diciamo che il 20-20 è una roba che ci dà un po' fastidio c'è la possibilità di farne un milione in questa partita qui e le nostre altre creature sono riuscite in qualche modo a portarla a casa perché noi potevamo bloccare il suo merit ma lui doveva per forza di cose gestire anche il nostro board e alla fine in qualche modo la riusciamo a portare a casa è bellissimo giocare con sto mazzo perché quando riesci a fare delle cose come il 20-20 ti senti veramente padrone del mondo con mono nero riesco a fare tutto e quindi niente ragazzi questo era il video questa era la lega aspetto le vostre opinioni qui sotto nei commenti questa volta niente musica dato che nel video dell'invitational c'è stato un problema di copyright che mi ha dovuto far ricaricare dei pezzi con dell'audio non proprio eccezionale spero che invece questa volta sia andato tutto liscio come l'olio mi auguro veramente di sì sono curioso di sapere le vostre impressioni su questa lega e in generale su questo mazzo e su Modern Horizon 3 che sarà destinato ancora una volta a cambiare image così come lo conosciamo ciao a tutti